Non è un segreto che ci sono molti cibi che sono stati prima descritti come sani quando in realtà sono nocivi. In questo video troverai i cibi che non dovresti mai mangiare, presentati da Jared Koch che è il fondatore di Clean Plates. Il problema con la maggior parte del cibo è che è pubblicizzato dalle aziende in modo tale da convincere la maggior parte delle persone a mangiarlo. Le aziende usano le parole senza zucchero e tutto naturale sulle loro etichette, ma questo non garantisce necessariamente che il cibo sia sano. Ora analizziamo i primi dieci alimenti che non dovresti mai mangiare. 1. Margarina. Una volta si pensava che fosse più sana del burro, la margarina è in realtà piena di grassi trans, che ricopre le arterie e aumenta il colesterolo. È molto meglio usare vero burro, ma con moderazione. 2. Hot dog e altre carni lavorate per sandwich. Questi tagli di carne di qualità inferiore sono pieni di nitriti, aromi chimici, coloranti e troppo sodio. Cerca le salsicce senza nitriti e fai il tuo panino di carne cucinando un po' di pollo o tacchino da affettare sottilmente. 3. Prodotti caseari trasformati. Potresti averlo visto in fette, a volte nella plastica o spruzzabile da una bomboletta. Questo cibo finto non può nemmeno essere etichettato come formaggio. Se hai voglia di nachos, puoi creare la tua salsa al formaggio utilizzando del vero formaggio. Ma stai lontano da quello che ci piace chiamare formaggio di plastica. 4. Bevande zuccherate. Perché bere calorie vuote? Le bibite zuccherate contengono un sacco di sciroppo di mais ad alto, contenuto di fruttosio senza alcun valore nutrizionale. Prova un'acqua infusa di frutta per aggiungere una spruzzata di sapore fresco con cui ti sentirai più a tuo agio. 5. Patatine fritte. Quando McDonald's ha comunicato gli ingredienti delle proprie patatine fritte, le persone si sono sorprese di scoprire che ce ne erano 17 sulla lista. Provate invece queste croccanti e deliziose patatine fritte di fagioli verdi croccanti. 6. Insalate del fast food. Almeno non stai ordinando un hamburger, giusto? 6. Sbagliato. Alcune insalate dei fast food contengono più calorie e grassi di un hamburger. 7. Patatine fritte con tutti i condimenti extra e condimenti grassi. 8. Informati prima, senza partire dal presupposto che i menù salutari siano davvero tali. Un'opzione ancora migliore è quella di fare da sé un'insalata e scegliere un condimento a base di aceto come questa insalata all'italiana tritata con condimento della casa. 7. Dolcificanti artificiali. Questi dolcificanti sono molto più dolci dello zucchero normale, il che porta a un aumento del desiderio di zucchero. Sono in relazione anche con alcuni problemi neurologici e cancro. Prova un po' di frutta se vuoi soddisfare quel certo desiderio di dolce. Dolcificanti naturali come il miele o il vero sciroppo d'acero sono anch'esse ottime alternative, ma con moderazione naturalmente. 8. Popcorn nel microonde. Per imitare il sapore del burro si usa l'acido perfluoro ottanoico, che è stato collegato a certi tipi di cancro e infertilità. È più sicuro e più economico fare il popcorn con il microonde mettendolo in uno di quei sacchetti marrone per alimenti e quindi utilizzare un vero e proprio tocco di burro. 9. Yogurt light. Quando tutto il grasso viene rimosso, è necessario aggiungere qualcos'altro per rendere lo yogurt di nuovo buono. Questo significa aggiungere zucchero, aspartame e molti altri ingredienti altamente trasformati. Prova ad aggiungere frutta e miele al semplice yogurt greco per uno spuntino delizioso e più sano. 10. Pane multigrano. È una cosa difficile, suona e sembra sano, ma non lo è. Il pane multigrano è un pane bianco con qualche altro grano messo insieme. Come forse sai, il pane bianco è privo di sostanze nutritive e contiene farina arricchita. Quello che occorre è invece pane integrale al 100%. Il pane integrale dovrebbe essere il primo ingrediente elencato. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici. Grazie a tutti.